allora in questa giornata mondiale per l'emofilia che si terrà il 15 aprile a roma quest'anno abbiamo deciso di utilizzare uno slogan importante io conto contaci questo perché vogliamo dare importanza non solo numerica al paziente ma anche a quella che a quelli che sono i servizi e le prestazioni che lui potrebbe ricevere nel momento in cui si censisce nella maniera giusta vogliamo richiamare l'attenzione su un registro di patologia che è stato istituito presso l'istituto superiore di sanità nel 2017 e che non viene utilizzato come dovrebbe essere utilizzato questo perché c'è una dispersione nella raccolta dei dati da parte dei centri da parte delle regioni una dispersione che incide con importanza nella nella poi nella nella gestione poi di quella che è la patologia nell'organizzazione nella programmazione sanitaria che noi vogliamo attenzionare all'interno di questa giornata e spiegare come sia importante fondamentale per noi la raccolta di dei nostri dati all'interno di quel registro per ottenere quelle prestazioni e quei servizi per noi essenziali quindi speriamo che attraverso i nostri ospiti il 15 aprile che saranno la società scientifica AICE che raccoglie i centri di emofilia su tutto il territorio nazionale l'istituto superiore di sanità e il CNEL che è la terza camera dello stato e che sarà organo propulsivo propositivo nei confronti del governo per quelle che sono le nostre richieste in questa giornata che all'ospicio che possa essere utile per tutti non solo per per noi federazione ma per i singoli pazienti affinché i loro appelli all'interno delle regioni per ottenere PDTA per ottenere prestazioni per ottenere assistenza più personalizzata possano essere ascoltati